Taglio di Pazzini, bella apertura per Lazovic, solo Lazovic, Buffon, secondo opportunità! E va vicino a tanto così, ancora una volta, Miguel Veloso al gol del 2-2. Di Bala scambia con Ronaldo, 1-2, sempre loro due, funzionano insieme, Ronaldo di Bala tira in porta di Bala! Ballone alto, discorso che facciamo, Ronaldo forse copre di Bala, non riesce a essere brillante con Ronaldo, oggi sono arrivate le risposte.